8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! 1, Français 1, Trans coded in T messed up in American society 2,1, Trans coded in Tag and M tras wakes up 6,7, 7, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 12, 13, 23, 24, 23, 24,enc 8, Gerne, 2, 1, Green falt 23, 24, inquisita non so quanto ci si può stringere arriva eh non esagerare ecco non superare quello che potresti già aver problemi che ti appena fa 20 metri vediamo Ita 45 e Ita 25 molto vicine Ita 45 è il recupero direi guarda il moretto guarda il moretto come supera la New Zealand vediamo l'inghie Svizzera 100 che si invola verso la boa vediamo l'interessantissimo duello da New Zealand il muro di Venezia guarda ma va guarda il muro di 그렇죠 guarda il muro di guarda il muro di guarda il muro di Questa voglia hai preso 20 metri Vai 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 Eh ragazzo, ti hai fermato troppo Eh, sto riprendendo Bravo, bravo Renato vai Vai Bella Bella Renato Tira, vira lì su la prova, vira lì su la prova, vira lì su la prova carina Ah, ti ho fregato da sotto Ecco, sfitta la scelta, portata Francesco Malano, si aggiudica la prima regata del primo anno, della prima coppa Il primo tutto Ecco che taglia a tre quarti Questo è il primo, il primo che ha vinto la prima coppa è regalizzata Secondo posto, a linghe 75 Verso New Zealand Grazie Grazie per aver guardato il video.